Come dicevo prima, insomma, ho avuto anche un incontro con Capezzone, anche al dottor Capezzone l'ho detto, il problema centrale era il fatto che ci fosse Fabio Roscani e, come dicevo prima, un esponente di Fratelli d'Italia che si rifà a nostalgie fascistiche, come dicevo prima, a Preditaro Balbi... Quelli che sono in Parlamento non sono fascisti, la democrazia è fatta di diversità, si chiama diversità, non fascismo. Non puoi dirlo, devi parlare, contrapporti, fino a che non sei... Chi bastona è colpevole, chi parla non è colpevole, non c'è il mangarello. Allora, se tu vuoi parlare e dici sei un fascista, quello ti risponderà, non lo sono, non c'è il fascismo in Parlamento, non c'è, è ridicolo. Risposta, risposta? Thomas? No, questo mi pare evidentemente, insomma, una narrazione della realtà un po'... Perché è fascista? Ma che cazzo di fascista? Non è fascista? Non è fascista? Non è fascista, è fratelli d'Italia! Mi fa finire per piacere? No, non è fascista, tu hai detto che è fascista. Grazie, perché anche parlare sopra... Sì, parla sopra, parla sotto, voglio parlare, parla lei, ti parlo sopra perché dici delle cazzate! Sei antidemocratica! Non è fascista, è fratelli d'Italia! Posso intervenire? Non è fascista! Tu sei fascista! Tu sei fascista! Adesso vai! Perfetto, grazie, posso terminare? Perché tu sei carino! Posso terminare, grazie mille! Non puoi continuare! Andiamo, Vittorio, se ti ascoltiamo! Eh, guardi, guardi! Sta mettendo in atto le stesse cose che lei dice che abbiamo fatto noi, ma che in realtà non abbiamo fatto! Sta facendo, sta riproponendo le stesse pratiche, se mi fa terminare di parlare, se mi fa terminare di parlare posso risponderle, posso risponderle? Prego, prego, vai! Grazie mille, grazie mille! Come dicevo prima, questa è una narrazione della realtà un po' applasmata a proprio piacimento, l'abbiamo visto benissimo come Ignazio Benito, la russa, ha dei busti di Mussolini all'interno della propria casa, si è parlato tanto dei ritratti di Mussolini all'interno dei ministeri... Bugiardo! Bugiardo! Non ce li ha! Non ce li ha! Capra! Va benissimo! Sei stato a casa sua! Non ce li ha! Non ce li ha! Mi pare che questo... Perfetto, mi pare che questo sia una modalità di discussione...